Novità per i cittadini residenti nel Pago e per le imprese. Nel municipio di Farra è stato aperto il nuovo recapito di Veneto Lavoro, un ufficio gestito da personale qualificato che consente di accedere a tutti i servizi erogati dai centri per l'impiego del Veneto. Noi siamo area interna e quindi stiamo lavorando da un anno e mezzo ormai per cercare di portare appunto i servizi. Abbiamo aperto una sede universitaria un mese e mezzo fa, anche quello è un passo importante. Il nuovo ufficio è gestito dagli operatori del centro per l'impiego di Belluno e si rivolge a una platea potenziale di oltre 5.700 persone in età lavorativa. Nel solo 2023 i cittadini dell'Alpago entrati in disoccupazione sono stati 215, tra cui molte donne, sul fronte delle imprese. Nei comuni dell'Alpago hanno sede operativa circa 1.600 aziende, 350 di queste hanno effettuato assunzioni nell'ultimo biegno. L'obiettivo, ha detto Raffaella Bordin, dirigente di Veneto Lavoro, è quello di essere sempre più vicini ai cittadini e di garantire la massima prossimità dei servizi che offriamo. Per noi poter avere un punto d'appoggio e quindi offrire un punto di accesso a tutti i servizi a livello locale diventa assolutamente strategico, anche per avvicinare ancora di più le aziende per supportarle nella ricerca di personale. Il nuovo recapito del centro per l'impiego del comune di Alpago sarà attivo il secondo e il quarto martedì del mese, dalle 8.30 alle 12.30.